Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, settimana di nuova promo, sto parlando dei trailblazers, ovvero i pionieri, sono uscite un sacco di carte interessanti, tra cui Rafinha, Quara, Bastoni, chi più ne ha più ne metta e questi giocatori sono proprio oggetto di questa review, quindi mettetevi comodi e andiamo a vedere come hanno reso questi giocatorini. Partiamo proprio da lui, il buon Rafinha, giocatore strachiacchierato al momento soprattutto per le sue performance reali che sono veramente fuori di testa a un periodo di forma stratosferico per l'attaccante del Barcellona e riceve una versione SBC su FC25 che sicuramente avete visto costa più o meno sui 500.000 crediti, più che altro la noia mortale che richiede tantissimi giocatori, sono addirittura 99 perché 9 sono le sfide, quindi un po' lunghetto il suo completamento. Però andiamo ad analizzare, stiamo parlando di un giocatore di 1,76m, con corsa esplosiva, 4 skill e 4 di piede debole, piede mancino. Può giocare attaccante destro, esterno destro e attaccante sinistro, quindi molto versatile in base a quello che è appunto il suo discorso di schierabilità all'interno del terreno di gioco. Giocatore che dunque a destra magari come alternative potrebbe avere il Pulisic di cui parleremo a breve, Dembélé, insomma giocatori di questo tipo, mentre a sinistra magari Son, a destra c'è anche Salah ovviamente, Son, Nico Williams, quindi parliamo di giocatori che possono tranquillamente infastidirlo in termini di competitività, anche se comunque secondo me ad oggi il giocatore con cui paragonare questo Rafini è esattamente se stesso. Sto parlando della versione IF, che costa più o meno 350-360.000 crediti, quindi leggermente in meno. E veniamo al rendimento dunque di questa carta, soprattutto rispetto a quella che è la carta IF. Da quello che ho avuto modo di vedere si tratta di un giocatore dotato di un buono speed boost che sembra essere quantomeno rispendibile con determinati giocatori al momento. Sul lungo anche va abbastanza via in velocità, quindi diciamo che nel complesso è una carta veloce. Una carta dotata di una buona finalizzazione, soprattutto per quanto riguarda il tiro dalla distanza con la Trivela, nonostante non abbia il playstyle, motivo per il quale io vi consiglio di schierarlo prettamente a sinistra. Gli esterni di solito sto cercando di schierarli sempre su loro piede forte proprio per sfruttare questa meccanica che nonostante doveva essere nerfata risulta molto forte e contro squadre che sono molto chiuse e che non muovono neanche il portiere vi dà veramente una quantità di opzioni veramente molto interessante. Per quanto riguarda i passaggi, discreto l'82 di corto, discreto il 78 di lungo, insomma è un buon passatore ma non vi aspettate di ritrovarvi chiaramente Pirlo. È un giocatore invece che al contrario è molto agile, il 91 di agilità si sente, si sente le attività e il controllo palla. Nonostante quell'82 di equilibrio non ho riscontrato grossi problemi di inciampamento quando arrivano gli avversari a contendergli il pallone, bene anche il 92 di resistenza, l'80 di aggressività per andare anche un po' a contendere palla nella fase di prima pressione. Vi dicevo degli stili di gioco perché spicca su tutti ovviamente il playstyle plus cambiato che non è più quello del trickster ma bensì il tiki-taka che ci piace. Bene il tiro a giro bianco, il trickster rimane nella sua forma base, quindi va benissimo perché riusciamo comunque a fare la finta di tiro di quest'anno che è molto forte. Abbiamo poi il rapido e il razzetto, la batteria, quindi un comparto secondo me ideale per un giocatore che deve giocare in quella posizione lì, da attaccante destro all'attaccante interno plus plus mentre a sinistra c'è la plus che va bene lo stesso. Un giocatore che sinceramente mi è piaciuto tanto, l'ho utilizzato con stile d'intesa finalizzatore per boostargli soprattutto il tiro, giocatore che per quello che reputo io può aver senso sbloccare a due condizioni. La prima è che con i fodder l'investimento di crediti che andate magari a fare è inferiore al costo del suo if che rimane comunque una carta non così più scarsa e soprattutto scambiabile e magari in quel ruolo non abbiate già dei giocatori non scambiabili. Sto pensando a Nico Williams RTTK oppure il sonno di cui invenzionavo in precedenza perché altrimenti è un po' uno spreco buttare soldi su un'altra carta non scambiabile considerando che dovrebbero essere in arrivo i potm di Vinicius e della Puteias. Andiamo avanti, è un altro giocatore molto interessante di cui vi parlo è Quara. Quara che ha già ricevuto versione if, versione potm, insomma di tutte e di più anche la carta della Champions ma in questa versione Trailbladers ragazzi è una roba veramente clamorosa. 5 skill e 5 piede debole, 1,83m quindi una gran fisicità, benissimo le posizioni perché può fare AS, ES, trequartista e attaccante destro quindi lo si può mettere ovunque. Io l'ho giocato sia esterno che trequartista e l'ho preferito da trequartista perché grazie alla sua fisicità e grazie alla sua abilità nel passare il pallone lo si sente veramente tanto. Poi quando arriva che deve calciare è una sentenza. Vi dicevo abbastanza veloce, dotato di una grandissima finalizzazione, bene i passaggi soprattutto l'88 di corto, anche discretamente agile. La cosa che mi piace di questo Quara è che skilla molto bene, tiene la palla attaccata al piede quando skilla e questo è un grande plus. Ha anche un bello speed boost soprattutto quando facciamo l'L1 corsa ma anche la finta di tiro dell'elastico con l'L1 prende una buona velocità. Si sente, vi ripeto, palla al piede che ha 88 di reattività, 91 di controllo palla, bene l'81 di resistenza. Come playstyle abbiamo il tiro a giro bianco, il filtrante bianco, il tecnico bianco, la trivela bianca assolutamente da non sottovalutare e il trickster per la finta di tiro che tanto ci piace. Come AS ha l'attaccante eterno plus plus e va benissimo, anche a destra ma solo plus. Da trequartista fa l'attaccante ombra che è tantissima roba perché sappiamo quanto questo ruolo sia stato migliorato, quindi molto bene l'attaccante ombra di Quara che è la posizione nelle quale io l'ho preferito. Anche lui giocato con un cacciatorino per bustare in questo caso a velocità e tiro veramente mi ha fatto impazzire. Forse il prezzo un po' altino, prezzo suo dovrebbe essere 3-7 gli 800 però on point questo Quara. Veniamo a Pulisic, un altro giocatore molto 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 interessante, costo che è impennato dopo che il prestito è stato ridotto da 96 giorni a 96 ore, questo è un capitolo a parte per gli amici della EA. Ok, 4 skill e 5 piede debole, destro il suo piede preferito, 1,77 m, è un giocatore che anche in questo caso può fare 154.000 ruoli, quindi benissimo. Questa cosa qui per l'ibridabilità è anche perché in Serie A soprattutto c'è sia carenza di attaccanti a destra, che a sinistra, che di trequartisti, quindi lui può fare tutto, dove vi serve ce l'andate a mettere. Giocatore che anche in questo caso si rivela veloce, è un buono speed boost, corre anche sul lungo, molto bene il tiro, quando arriva davanti la porta finalizza, bene il passaggio corto, quando si tratta di imbeccare i compagni, il suo lo fa, è anche molto agile palla al piede, infatti il 92 di agilità e l'88 di controllo palla non mentono accoppiati all'85 di reattività. Ha una discreta resistenza, una buona aggressività, come playstyle abbiamo il tiro a giro bianco, il rapido bianco, ma soprattutto il cross plus, che al momento in un gioco dove i cross, le palle in mezzo stentavano ad arrivare, con questo ne ho messe di carine, e come ruoli abbiamo l'attaccante interno plus plus a destra, l'attaccante ombra da trequartista plus e l'attaccante interno plus a sinistra, quindi anche per lui abbiamo tutto il comparto ideale. Onestamente anche lui da giocare con un cacciatorino con un finalizzatore mi è piaciuto tanto, forse il prezzo anche qua ha risentito tanto di questa botta dovuta alla riduzione delle partite dei giorni del prestito, però onestamente questa è una carta che soprattutto per una serie A ci sta, ma ci sta anche perché linka le giocatrici americane, se magari avete bisogno di un americano di qualità e non di vari Bisley, Howard, eccetera. Voglio chiudere con Bastoni, Bastoni un capitolo un po' a parte, perché è un giocatore che è molto forte, partiamo da dire questo, c'ha il procione plus come playstyle, ma costa una infinità, costa addirittura quasi quattro volte il prezzo di salibba, che con tutto il rispetto che io possa avere questo Bastoni mi sembra un attimino eccessivo. Ad oggi indubbiamente questa carta è il difensore più forte di serie A e vi ci metto la mano sul fuoco perché il procione fa tanto la differenza. Passaggio corto 82, passaggio lungo 86 buono anche in fase di disimpegno, molto reattivo con l'L2 visto l'88 reattività e il 70 di agilità, statistiche difensive veramente sopra la media, molto efficace in fase di recupero, 86 la forza, 86 l'aggressività e 85 la resistenza. Per quanto riguarda i stili di gioco, oltre al gioco d'anticipo abbiamo anche l'intercetto e l'L2, che contribuiscono a farlo muovere molto bene nonostante il metro e 90 di altezza, anche il driven e il filtrante alto per uscire da alcune situazioni scomode, che non fa mai male, e poi come regista difensivo plus plus, difensore plus e stopper plus, quindi anche i ruoli vi direi che ci sta di brutto. Unica nota stonata è il prezzo, vi ripeto, prezzo veramente un po' fuori fase, però se magari ve lo volete andare a comprare non sbagliate. Per questo video come al solito è tutto ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete provato questi giocatori, se avete intenzione di comprarli e cosa eventualmente ne pensate, io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone dal vostro Liberoschi. A presto, ciao!